Già passata agli archivi l'edizione 2013, anche la Confcommercio chiede di estendere l'area espositiva dei comics alle piazze ancora non coinvolte dalla manifestazione in centro storico. In una nota congiunta con Commissione Centro Storico, Consorzio Centro Commerciale Città di Lucca, Fipe e Federalberghi, Palazzo Sani si complimenta con gli organizzatori della Kermesse, che per il quarto anno consecutivo è riuscita a battere il record di presenze. Adesso, dice Giovanni Martini, presidente della Commissione Centro Storico di Confcommercio, dobbiamo pensare ad un ampliamento del numero di padiglioni nelle zone est e nord della città e, nello specifico, nelle piazze rimaste sinora vuote, anche alla luce delle numerose richieste provenienti dagli espositori, così da coinvolgere ogni attività imprenditoriale della città nella manifestazione. Grazie.